Continua a salire il numero dei positivi in Puglia e purtroppo aumentano anche i decessi. Lo comunica la regione nel consueto bollettino epidemiologico. Nella giornata di oggi, 12 ottobre, si registrano 136 nuovi casi su un numero più basso di tamponi effettuati, 2433. La maggior parte delle nuove positività riguarda la provincia di Bari, dove sono 114 nuovi contagiati, altri 24 nell'Abat, 4 in provincia di Foggia, 4 nell'Eccese e 7 nel territorio di Taranto. Sono invece 6 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, il numero più alto negli ultimi mesi, 2 in provincia di Bari, 3 nel Foggiano ed 1 a Taranto, dati questi che portano il totale delle vittime a 614. Il numero delle attualmente positivi dunque sale a 3.913. di questi 307 sono ricoverati con sintomi, 19 in terapia intensiva, 3.587 sono invece in isolamento domiciliare. Intanto la prefettura di Bari ha chiarito che sono 53 complessivamente immigranti a bordo del traghetto rapsodi ormeggiato da giovedì nel porto di Bari risultati positivi al Covid-19, mentre 405 degli 805 sono quelli sbarcati fino ad oggi, tutti negativi al tampone. E sempre a Bari il Policlinico fa sapere che a seguito dell'indagine epidemiologica avviata dopo la festa privata organizzata nel reparto dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII, sono stati effettuati tutti i tamponi sui 20 operatori sanitari coinvolti, uno solo è risultato positivo, gli altri 19 sono negativi. Grazie. 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 Grazie.